giorni di bilancio a fine anno per il comune di san bartolome al mare il sindaco del piccolo centro della nostra provincia valerio urso ha tracciato questa mattina una riga sull'anno che sta per terminare il 2022 sicuramente come ho detto nell'ultima seduta di consiglio comunale l'anno della ripartenza è il primo anno in cui la legislatura mette a disposizione delle vere risorse economiche da poter utilizzare e a disposizione della collettività per quelle grandi sfide che nel futuro prossimo ci vedranno impegnati e noi vogliamo essere pronti diamo uno sguardo anche al 2023 sicuramente il 2023 è un anno che ci vede impegnati con le altre amministrazioni su tematiche che ormai sono ridondanti in provincia di imperia sicuramente la sfida per quello che può essere il nuovo collettamento della delle acque dell'acque reflue nel golfo dianese che purtroppo ci creano seri problemi ogni estate ogni momento di maggior afflusso delle nostre splendide località detto questo abbiamo in itinere sicuramente la problematica da sviluppare con la provincia con la regione per quanto riguarda i rifiuti dove ci sono degli stravolgimenti importanti di cui bisogna essere bravi a inserirsi per non creare più danni che altro a mio modo di vedere ma avrò modo di spiegare bene quello che saranno gli sviluppi futuri in questa situazione e san bartolomeo si vuole far trovare pronte in quelle che sono situazioni di rigenerazione urbana per rendere sempre più moderno efficiente e verso il turismo verso la nostra maggior fonte di guadagno san bartolomeo al mare e quindi sfide decisamente importanti che io con i miei colleghi vogliamo assolvere brillantemente e perché no anche per essere pronti a un'eventuale candidatura nel 2024 andremo ad elezioni e quindi vogliamo far dimostrare che san bartolomeo al mare una cittadina attiva funzionale funzionante per quelle che sono le sue caratteristiche e che questo testimone se non sarò io a raccoglierlo chiunque possa essere possa avere come dire un buon lavoro su cui portare avanti dei programmi futuri per san bartolomeo al mare per i tanti turisti e per i nostri straordinari residenti preoccupazione è stata espressa dal sindaco di san bartolomeo al mare per la situazione del lato idrico anche dopo la notizia relativa all'inibizione dei pubblici uffici per un anno del commissario Gaia Checucci ho preso anch'io questa mattina dalle testate giornalistiche il fatto che la dottoressa Checucci sia indagata dal Tar del Lazio credo nel Lazio per alcune vicende e ciò mi preoccupa ulteriormente perché sostengo che sicuramente con l'arrivo della dottoressa Checucci c'è stata una nuova dinamicità alla questione del raddoppio o della tubazione verso il golfo dianese dell'acqua e dei reflui per quanto riguarda i grandi lavori che da tempo affliggono il golfo dianese tutto e preoccupazione perché da tempo si sente parlare che finanziamenti sono giacenti presso alcuni ministeri con passatemi il termine delle finezze amministrative c'è una leggenda metropolitana che recita che mancherebbe una firma su un documento per sbloccare 28 milioni di euro per questo importante lavoro e ormai sono mesi per non dire più di un anno che sentiamo dire questa cosa ho paura che anche questo tipo di notizia possa essere un ulteriore freno e quindi temo molto per la stagione futura prossima che sta per arrivare quali possono essere i risultati in merito di adduzione dell'acqua e quindi con i problemi che ben voi conoscete e quindi sarà mia cura immediatamente chiedere notizie su questo tipo di situazione se dobbiamo essere più realisti del re e casomai non dico in questa occasione ma in un'occasione immediatamente successiva andare a comunicare a tutti quanti che quest'estate saremo di nuovo nella situazione di una crisi idrica chiara Un'altra preoccupazione del sindaco Urso riguarda i rifiuti segnatamente il timore di ritornare indietro in un contenitore più grande rispetto alle esigenze dei piccoli paesi Sì, sembrava una vittoria questo disegnare un ambito 12 comuni che riguardavano i comuni dell'Andorese e del Golfo Dianese di un servizio che muoveva i primi passi ma poteva essere sicuramente efficiente, funzionale, gestito bene con l'apporto di tutti quanti con delle problematiche che ci sono e che devono essere corrette e via discorrendo si poteva secondo me fare un buon lavoro noi abbiamo iniziato per primi in questo ambito da 12 comuni il 10 di gennaio 2023 festeggeremo un anno di questo servizio mi trovavo moderatamente soddisfatto sicuramente c'erano alcune cose che andavano riviste corrette oggi ci chiedono di tornare indietro tornare indietro in un servizio che assomiglierebbe drammaticamente richiamando un po' la storia il vecchio appalto Tradeco e ho paura che la gestione di un appalto con oltre 30 comuni possa essere decisamente più critico quell'esperienza l'avevamo già vissuta questa la dovevamo vivere secondo me e migliorare il mio dubbio e la mia contrarietà a questo tipo di nuovo strumento è sicuramente manifesta e l'ho testimoniata a tutti all'organismo che sarà colui che avrà la regia quindi la provincia d'Imperia